Ciao a tutti, io sono Ellie e oggi torniamo a giocare con The Sims 4, con la challenge Tiny Town. Allora, siamo tornati con Opal e Sergio e mamma mia, raga, che cosa ho fatto? Un lavoraccio, un lavoraccio, ho giocato tantissimo, 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 ma che dico, tantissime ore da sola, off-cam. Mamma mia, cioè un lavoraccio, veramente un lavoraccio, bellissimo, assolutamente bellissimo, mi sta piacendo un sacco, voglio continuarla, non vedo l'ora appunto di sbloccare pure gli altri personaggi e di provare appunto con loro pure. Mamma mia, ma che lavoraccio, allora mi è andata bene che comunque con l'abilità, con la carriera di, cioè con la carriera, comunque con l'impresa di gemmologia si fanno tanti soldi velocemente. Con le altre carriere non lo so, ho paura, con gli altri hobby non lo so. Fatto sta che appunto ho giocato tantissimo, ho fatto veramente tanti soldi, poi praticamente che è successo? Ho demolito la casa e l'ho rifatta perché non lo so, non mi convinceva, a parte era troppo grande, cioè non mi dava l'idea di Tiny House, perché comunque l'ho fatta, l'ho fatta molto grande. Allora che ho fatto? Sono andata a cercarmi quello staff pack delle Tiny House per vedere la più piccola proprio, proprio la casa più piccola, quante erano le piastrelle richieste. ed era 33, se non erro, 33, perché poi 34 diventava quell'altra. E quindi io ho fatto una casa di 32 caselle, quindi è proprio una Tiny House. A tutti gli effetti mi è volata la telecamera. e quindi praticamente l'ho rifatta, l'ho fatta nello stile suo, quindi ho capito un po' che cosa voleva. Ricordiamoci il suo arredamento di stile era fiabesco, vintage e regina Anna. Io l'ho fatto molto più sul fiabesco perché comunque mi piaceva... è un fiabesco... cioè secondo me ci sono tutti e tre gli stili, fiabesco, vintage e regina Anna. E anche la struttura l'ho fatta più in quello stile perché comunque effettivamente quell'altra era troppo moderna. Non ci azzeccava per niente la struttura con lo stile che doveva avere la casa. E quindi l'ho rifatta e adesso ve la mostro. Allora, è ancora da completare. Stringimi più forte! Sì, loro due si devono ancora sposare, infatti penso che lo faremo in questo episodio. Eccola qui la nostra casetta, guardate! Allora, mi piace un sacco, mi dà proprio quelle vibes da fiaba, mi sembrava un po' con il tetto di paglia, mi ricorda un po' tipo biancaneve così. Poi ho messo... questo è un viola, un lilla, però viola più scuro non ci stava. Ho messo il mattone, la pietra, che quindi appunto ricorda quel regina Anna, fiabesco, vintage, un po' tutte e due. E' cresciuto l'albero, finalmente! Ci ha messo un'eternità a crescere questo benedetto albero. E appunto ho messo le lucciole. Di qua ho fatto tutta questa parete floreale, sì lo so che magari è troppo, però vabbè, solo una parete perché dovevo coprire, non c'erano le finestre. Questo è il dietro, molto semplice. Di qua ci sono i fiori, non ci sono viola, quindi le ho messi bianchi, le scale di pietra, le porte, le finestre, appunto tutte quante viola. Poi andiamo dentro. Allora, qui c'è la cucina, veramente minuscola. Qui in teoria ci dovrei mettere il tavolo. E devo vedere se ci passano poi, più che altro, con due sedie. E qui appunto c'è il frigorifero, il fornello, un piano per cucinare, il lavandino per lavare i piatti, il tappetino. Come piastrello ho dovuto mettere queste perché sul viola non c'era niente. Queste, vabbè, ci azzeccano un po' con i colori, con lo stile. Di qua c'è il bagno. Ho usato appunto questo, mi ricordo un po' più Regina Anna. Quindi il dorato, tutto questo lusso, lo specchio pure fatto così, questo lavandino così in stile vittoriano, oppure il gabinetto. Tutto questo stile così, molto lussuoso e anche vittoriano. La camera da letto, ho usato il letto dell'altra volta perché appunto mi piaceva un sacco. Ho messo questi comodini, queste bajour. E l'armadio non c'è sta. Non so dove metterlo, l'armadio. Sì, ci sono le porte così perché una porta il bagno e l'altra porta la cucina. Perché sennò dovrei metterlo di qua e il gabinetto di qua. Cioè, no, vabbè, preferisco così anche se si vedono le porte così. Piuttosto non lo so se le posso girare così. Così sembra tipo una porta unica. Però io volevo quella con... Ah no, però quella col pomello dorato mi sembra che è a due. Così, così ha più senso, è una doppia porta. E niente, quindi questa è la mia tiny house di Opal. Qui vorrei farci una zona relax. Cioè, siccome dentro è piccolo, non so se voglio mettere un tavolo per mangiare qui fuori. La mia idea era quella di metterlo qui, il tavolino. Devo testare poi se ci passano, però. Fammi vedere se c'è qualcosa sul viola. Ma no, mi sembra di no, che sul viola non c'era niente. Cioè, almeno non nello stile che voglio io. Quindi, no, ecco, questo andrebbe bene. Questo tavolino, però appunto abbiamo un problema di spazio. Vediamo se ci passano. Io ci provo. Se poi non ci passano, allora lo metto fuori. E il problema delle tiny house è questo. Non riesco a mettere la roba dentro. Allora, questa è rosa. C'è un sacco di roba sul rosa, ma sul... Io te le metto rosa. Che vuoi? Vedi, non... Vedete, non ci sta. Proviamo così, vediamo se ci entrano. Ancora devo fare la prova del 9 se ci entrano oppure no. Ah, e poi a lei, siccome io la mod per avere la scopa, le ho messo questa scopa qui. Che è vintage. Vai, usala anche se è pulito, perché abbiamo già pulito. No, non dimmi che non puoi usarla perché è troppo piccolo. Sei seria? Ok, basta, abbiamo capito, spostati. Niente, si è buggata. Bene, funziona alla grande, mi dicono. Dai, no, non posso usarla. No, non c'è spazio per spazzare. No, niente. Ok, le ho preso la scopa, ma non la possiamo usare perché non c'è spazio. Comunque la scopa era questa. No, dai, che tristezza. E mo? E mo come faccio? La cosa brutta delle tiny house. Visto? Visto? Non c'è spazio neanche per spazzare. Allora, però ci entra. Di entrare ci va. Il gabinetto lo puoi usare. Chissà se mangi pure qui. Allora, se vi la cena inauguriamo questa... Eh, come si chiama? Questa cucina. Così vedo se puoi cucinare e soprattutto se riuscite a sedervi tutti. Allora, in teoria passare passano. Entrano e tutto quanto. Quindi già una cosa buona e giusta l'ho fatta. Non può spazzare, quindi devo togliere la polvere. Per forza. Perché se non può spazzare c'è un problema. Ok. Che peccato. Devo farvi vedere la scopa. Qui non c'è nulla da raccogliere. Ok, perfetto. Allora, prendi una porzione. Prova a venire a mangiare pure tu. Siediti lì, ti prego. No! Siediti qui, subito. Sergio. Ok, ok. Di sedersi si siede. Il problema è vedere se mangia. Vlad! Che cosa ci fai qui? Mennomale che adesso siamo al chiuso. E non puoi entrare in casa mia. Almeno si spera. Allora, riponi. Il frigorifero si apre. No, no. Non aprire. Non aprire. C'è un vampiro alla porta. Non aprite quella porta. È un horror. Che carini vederli da... Non aprire. Ah, ok. È troppo piccola sta casa. Mi viene male. Allora, è vero che potevo farla anche più grande. Spazza qui. Ci riprovo. Ma non va. No. Uffa. 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 Vabbè. Allora, io lo spazio comunque ce l'ho, eh. Cioè, potrei anche ingrandirla. Diciamo che adesso va bene così. Piuttosto la ingrandisco da dietro. Qui ci faccio uscire un'altra camera. Nel caso, appunto, arriva un pargoletto. Ci faccio uscire un'altra camera da letto. Così. Questa pure si allarga. La cucina diventa più grande. Ci esce un salotto. E possiamo fare anche così. Però comunque, come inizio, ci sta. Ci sta assolutamente come inizio. È proprio una tiny house. Ci sta tutto quello che serve. Tanto per ora sono in due. E quindi va bene così. E... Ok. Loro si devono ancora sposare. E io volevo fare... A parte che adesso è notte. Quindi andate a dormire. E io non ho soldi. Volevo fare gli anelli di fidanzamento. Quindi progetto un gioiello. Andiamo a vedere gli anelli. Mentre loro dormono. Allora, anello semplice. No. Anello massiccio. Anello grezzo. Anello... Ah, lei è arrivata a livello 10 di gemmologia. Mi sono scordata. Anello oculare. Anello delicato. Non fare promesse ma brindisi con questo anello squisito. Anello vistoso. Un anello talmente splendido che dovrei costituirlo in un posto davvero sicuro se non vuoi che qualcuno te lo rubi. Anello botanico. Una scelta velenosa. Anello plumbob. Cosa dovrebbe dire di questo... Cosa dovremmo dire di questo anello? Bob, non mi resta che gettare la prugna. Anello marinaio stellato. Ed obbligo un anello di fidanzamento perfetto. Il marinaio stellato è il gioiello adatto. Talmente luminescente che vedrai la tua vera figura riflessa. Ok, quindi devo fare questo. Ovviamente voglio il viola. E il cristallo voglio il quarzo. O l'ametista. Siamo l'ametista. Ok. 699. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Niente. Mi servono i soldi. Persino per farmi il mio anello di matrimonio. Mamma mia. Così almeno si sposano. Che belle tutte le montagne innevate. Così si sposano e siamo a posto. E allora niente. Vieni a progettare un gioiello casuale e lo vendiamo. Come brilli. Uh, raccogli i cristalli. Sì, sì, assolutamente. Raccogli tutto. Vieni tu che le stai lavorando. Raccogli tutto finalmente. Oh, che bella cosa. Bellissimo. Oh, che bello. Non devo più andare alla ricerca di cristalli. Meraviglioso. La mia salvezza. Ok, questa è tutta roba tua. Ma qui dentro c'è qualcosa? No, che ho preso tutto. Vai in bagno. Abbiamo un bagno adesso. Abbiamo una casa in realtà. Lo vedi? Abbiamo una casa. Dobbiamo ancora finire di arredare un po' l'esterno. Però vabbè, lo faremo man mano. Intanto almeno adesso hanno una casa. E già vuol dire tanto. Assolutamente. Poi col fatto che ho ridotto le dimensioni. Ho recuperato veramente un sacco, un sacco di soldi. Poi l'ho fatta lavorare ancora. Non ha avuto pace. Non ha avuto assolutamente pace questa ragazza. Perfetto. Vendi. No, ci servono più soldi. Ancora più soldi ci servono. Vai, 250, vai. Uh, le bollette. E quando sono arrivate le bollette? Scusami. No, eh. Ho 29 simole. Quando sono arrivate le bollette? 1117. Povero mondo. Allora, io la casa l'ho costruita. Quindi posso mandare questo a fare soldi. Perché se no qua le bollette non le pago mai più. Eh, alla fine non è che te posso mantenere in eterno. Ok. Ah, Sergio. Lo faccio pescare. Così mi fa i soldi con i pesci. Lei mi fa i soldi con le gemme. Perché se no qua quello mi viene e mi pignora altra roba, eh. E non va bene sta cosa. Dobbiamo pagare le bollette. Ma non mi ero nemmeno accorta. Ero talmente presa qua a farla lavorare come non so cosa sta poveretta. Che non mi sono nemmeno accorta che erano arrivate le bollette. Forza. Su. Bravo. Tu pesca, pesca, pesca tutto. Pesca bambole V2 a go go che fanno un sacco di soldi. Ok. Vendi. Meraviglioso. Posso pagare le bollette. Livello 4. La credibilità è uno strumento infallibile per convincere gli investitori a separarsi da loro i soldati simoleon. Per finanziare la propria attività ora Opal può usare il suo piano di imprese meticolosamente costruite e contattare investitori informali per i finanziamenti. Allora no, aspetta che lui, paga lui le bollette. Io mi faccio l'anello. Allora, qual era l'anello che ho scelto? Questo. Anello marinaio stellato che costa una barca di soldi. In più devo pagare pure questo. Ah, il quarzo per fortuna ce l'ho. Vai, fatti l'anello. Perfetto. Tu, forza. Stai pescando? Bravo. 667. Ok, ok, bravo. Possiamo pagare le bollette. Fanne altri. Ma ho venduto pure... No, ho venduto il bracciale! Ma non l'ho fatto apposta! Guadagna 5.000 simoleon. Bravo, questo 35. Non va bene. Di più, di più, più soldi, più soldi. Pesca! Cubo del futuro 325. Buoni! No, Alice, non è il tuo turno. Devi aspettare. Quella è un'altra simmina che dovrà venire a vivere qua nella tiny town. Ma dovrà aspettare, non è il suo turno. Non deve venire adesso. Oh, 204. Buono. Vai, continua, continua. L'hai fatto l'anello? Aspetta, voglio provare a vederlo. Che carino! È bellissimo! Allora, no, che vendi? Ormai l'abitudine... L'abitudine di andare a prendere sto coso. Di andare a fare quella. Cosa lì? Tu chissà, cosa vuoi? Bellissimo! Ok, perfetto. E a lui glielo facciamo un anello. Eh, scusa, perché a lui no. A lui gli farei anello mistico, anello vistoso, anello gotico, anello delicato, dea lunare. No, gli farei questo qua, anello massiccio. Più, più grosso. Sempre viola, usiamo sempre l'ultranio e il... Usiamo l'ametista, sì, dai. Ehi, non stai pescando, non va bene questa cosa. Bambola voodoo, bravo. Ora mi piaci. Perfetto, abbiamo un po' di soldi. Vai, basta. Paga le bollette. Prima che mi staccano la luce. Paga! Meraviglioso, vai a casa che adesso organizziamo. Ho un regalo per te. Un anello da donarti. Perfetto, metti nell'inventario. Dove sei? Dov'è Sergio? Dov'è Sergio? Ah, ok. Ma che fai? Ti nascondi. Vieni qua. Allora. Affetto, dai regalo... No, aspetta. Romantico, affetto, dai regalo romantico, anello massiccio. Tieni, per te. Grazie. Che cos'è? Eh, se te lo dico, che sorpresa è? Ti è piaciuto? Oh, lucida una rosa. Che carino. Adoro la gioia che porti nella mia vita ogni momento di ogni giorno. Oh, wow. Indossa con tutti gli abiti. Ah, no, ce l'è ancora il braccialetto. Wow, che signor anello. Ok, perfetto. E qua è notte. Vabbè, ma noi ci sposiamo qua, davanti a questo albero. Eh, ci sta, ci sta, ci sta. Tanto ci siamo già scambiati gli anelli. Quindi facciamo fuggi immediatamente con Opal. Matrimonio, sì. No, aspetta. Aspetta, annulla, annulla. Annulla. Cambiatevi, almeno. Non dico tanto, ma almeno cambiatevi. Ok, il tuo formale è questo. Perfetto, molto meglio. Sfoggia il gioiello. Sì, e l'ho fatto io, grazie. Sposati qui e ora. Sono felice che ti piaccia. Sì, ok, ok. Chiacchieriamo dopo. Bombo, sposatevi. Perfetto, molto meglio. Emozionatissima lei. Sì, comunque le devo togliere i gioielli che ha nel casse per fare tutti quanti i gioielli per lei. E glieli faccio indossare tutti quanti. Tipo per ogni outfit le metto appunto dei gioielli che fa lei. Stessa cosa a Sergio faccio. Auguri agli sposi, sì. Che carini. Che carini. La storia troppo romantica. Troppo, troppo romantica. Che cerimonia splendida. Oh, poi sta scambiando le promesse con Sergio. Ma si sono sposati in realtà. No, che prendi la luna? Sbagliato, sbagliato. Pensavo di essere con Opal. Volevo. Alzati. Volevo. Manda un bacio. Bacio suave. No, aspetti a fare la pipì. Non me ne frega niente. Oh, che carine. Ok, dai, vai a fare la pipì. Su. Usa. E poi... No. Cerca di avere un figlio. No. Non c'è spazio. Non ho soldi. Ah, ok. Niente pipì. Visto tutta la fretta che avevi di fare pipì. Poi alla fine hai cambiato idea. Fuochi d'artificio. Ok. Perfetto. Siamo sposati. Abbiamo una casa. Meglio di così non poteva andare. Assolutamente. Che bello. Allora, adesso in teoria, sì, potrei far arrivare il nuovo sim. Vediamo appunto chi sarà, ma lo vediamo poi nel prossimo episodio. Però sì. Ovviamente mancano dei dettagli. Però questa è una cosa che posso fare anche da sola. Continuo a farla lavorare. Poverina questa. Poi tanto continuerà a lavorare. Continueremo a vederla. Perché comunque siamo sempre qui nello stesso lotto. La faccio lavorare ancora. Per parlare dell'onigiri. La faccio lavorare ancora. Tanto adesso abbiamo l'albero che ci dà i cristalli. La faccio lavorare. Così finisco di fare un po' l'esterno della casa. Così com'è per il momento. Poi quando sarà, l'allarghiamo. E niente, questa l'ho venduta. L'hanno comprata. Torniamo pure il cartello. Questi li mettiamo qua. Ecco, sì. Vorrei mettere altri di questi cespuglietti qui. Stanno benissimo. Perfetto. Mettiamone due di qua pure. Lei che odia il giardinaggio è un po' piena di fiori. Questa casa. Proprio tanto, tanto piera. Però questi forse sono troppo alti. Effettivamente. Vabbè, non ce ne frega niente. Me la vedo io poi. Lasciamo perdere se basse. No, ma penso che li tolgo. Li tolgo e ci metto qualcos'altro. Non so, voglio fare un'aiuola. Quella là con le pietre. Qui davanti. bella. Sì, la farò. Poi vi faccio vedere appunto gli aggiornamenti della casa. Fammi mettere un po' di autonomia questi sim. Così fanno quello che vogliono. Mentre io parlo. E ok, sì. Quindi mi sistemerò qua. Sistemo l'esterno. No, quello non lo puoi usare. Non è tuo. Sistemo l'esterno. Faccio fare appunto altri soldi. E poi facciamo venire il prossimo sim. Vediamo chi sarà. Tanto Opal appunto abbiamo visto la sua storia. Ha avuto una relazione con Sergio. Non è detto che tutti quanti si innamorano. Cioè è stato un caso che Opal e Sergio appunto sono finiti insieme. Ma non è detto che tutti quanti si devono innamorare. Che si sposeranno eccetera eccetera. È stata pura passione con Sergio. Non ci ho potuto fare niente. Non l'ho potuti fermare. E poi voglio fare appunto un gioiello per tutti quanti. Quelli che arriveranno. E niente. È stato troppo troppo divertente. Non vedo l'ora di scoprire appunto chi sarà il prossimo. Di fare soldi appunto con la sua. Con il suo hobby. Di vedere che casa uscirà per lui. E soprattutto di vedere quale mini storia. Lui o lei. Non lo so se sarà maschio o femmina. Il prossimo che arriverà. E vedere appunto come andrà. Perché ovviamente poi essendo in tanti. Poi parleranno tra di loro. Io spero che non si tradiscono a più c'è Edda. Diventerà un'alta infedeltà. Assurdo. Quindi non lo so. Non è che. Ho cambiato idea. Non è che voglio avere tanti problemi. Lei deve ancora finire la sua aspirazione. Coltiva un albero di cristallo incantevole. Quindi questo vuol dire che lo devo portare al massimo. Perché aspetta. Adesso che cos'è? Sì va bene. Sta ancora all'inizio. Per far evolvere l'albero di cristallo fino a livello incantevole. Assicurati di badare sui bisogni di usare l'interazione. Fai evolvere quando diventa disponibile. Puoi eseguire i tuoi progressi tramite la disascrizione dell'albero. Fertilizza. Però lei odia il giardinaggio. Quindi questa è una cosa che devo far fare a lui. Quindi. Ah una libreria ci servirebbe. E dove la metto la libreria? Bella domanda. Sì ma i piatti li dovete lavare. Questo lo devi mettere nel frigo. Sennò poi si perde. Mi serve una cavolo di libreria. Devi impararmi il giardinaggio sto ragazzo. Perché sennò questo albero non arriverà mai al livello incantevole. E poi abbiamo finito con la sua aspirazione. Ah no. Taglio una gemma del valore di 2500 simoleon. Conseguo il livello 10 di gemmologia ma l'ho fatto. Evoca il tristumititore con un gioiello o una gemma creati con la lignite. Ecco appunto. Dobbiamo fare ancora la sua aspirazione. Quindi continueremo a giocare con lei. Ovviamente. Perché dobbiamo completare l'aspirazione. Poi appunto avranno. Allora lui ha dei bambini. Però magari lo convinceremo. Non lo so. Vedremo. Lo scopriremo. Lo scopriremo. Quindi niente. Con questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere sotto nei commenti. Seppure voi state provando questa challenge. Con quale sim avete iniziato. Se state usando appunto i sim di Deligrasi. Se invece l'avete creati voi. A quale hobby state facendo. Fatemi sapere sotto nei commenti tutto quanto. Perché sono curiosa di sapere cosa. Cosa state combinando voi. Come sta andando. Se vi state divertendo. A me sta piacendo tantissimo. È stato amore a prima vista. Appena l'ho vista questa challenge. E niente. Cioè. Mi ha fatto impazzire. Questo che esce in piena notte. Sei sospetto. Lo sai che sei sospetto ad uscire così in piena notte. Meno male che siamo da soli. Io prevedo un tradimento in vista. Ma non perché lo causo io. Proprio perché. Che ne so. C'è sempre un tradimento. Sempre. E niente. Io vi saluto veramente. Sì bravo. Fai un po' di flessioni alle 4 di notte. Quella. Ma. Vai a casa tua. Subito. A dormire. Ok. Gli toglierò l'autonomia. Basta. Mi ha stufato già. Vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ma che figata. Ciao. Ciao.